Oggi 30 aprile, in cocomitanza della giornata internazionale del jazz, esce il disco Batik Africana Suite, nato dalla collaborazione di due orchestre milanesi, l'orchestra di Via Padova e la Archipel Orchestra. Perché Batik? Perché Batik è un modo per colorare i tessuti, è un modo per intrecciare le trame e a noi è sembrato il modo più opportuno per raccontare questo incontro tra le due orchestre, l'orchestra di Via Padova e l'Archipel Orchestra. Un progetto questo che testimonia un incontro. L'incontro è un tema caro alla musica jazz, così come anche l'unione delle diversità, l'armonizzazione delle diversità, che è sempre vista in questi ambiti come una risorsa e una ricchezza. È un disco che racconta molto le esperienze musicali dei musicisti, che provengono anche da diverse culture, ed è un disco dove ci si diverte tanto e spero che questo lo possiate ascoltare. Buon ascolto a tutti. Batik. Buon ascolto a tutti. Grazie. 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 Grazie.